Le corse al terra del Lazio contro il testo del quesito del referendum presentato da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. Sulla scheda non sono specificati quali articoli della Costituzione sono interessati della riforma. Ci si limita a riportare il titolo del DDL, Boschi, spiegano i ricorrenti. È un quesito truffa, uno spot fuorviante a favore del governo, l'ennesima trovata di Renzi per prendere in giro gli italiani, dice il senatore Penta Stellato Vito Crimi. Nel ricorso poi si parla di quesito formulato dal Quirinale, che interviene precisa. è stato valutato e ammesso dalla Corte di Cassazione e riproduce il titolo della legge approvato dal Parlamento.